ragazzi siamo venuti a infidarci dentro il buco dello shaverton per andare alla galleria del piaccio priola e claustrofobico oltretutto e ci dovremo riempire bene di acqua potrebbe essere l'ultima volta che ci vedete non ci vedrete perché tanto rimarrà con noi entra entra nello spacco rientra nel buco da dove sei uscito passiamo passiamo aiaiai porca troia lo so accendiamo la luce io non ci passo qua ragazzi qua non è proprio un posto per claustrofobici grazie a tutti